Un mio collega ha giunto in stazione, a un certo punto suonava ripetutamente il clacson e chiamava aiuto. Io mi sono girato, ero sceso in un'altra linea, ho visto il mio collega che era praticamente con la testa sul posto dietro all'autista. Praticamente c'era questo ragazzo che lo teniva tra il sedile e il vetro dell'autobus e lo premeva lì e lo stratonava in sostanza. Dopo l'aggressione qualche giorno fa di un controllore MOM colpito con un pugno a bordo di un autobus a Loria da un ragazzo trovato senza biglietto, ancora un episodio di violenza questo pomeriggio, pochi minuti prima delle 17, alla stazione delle Corriere di Treviso ai danni di un conducente della linea 1, a raccontarla a un collega tra i primi ad intervenire e a soccorrerlo. L'abbiamo seguito e abbiamo chiamato la questura in maniera tale che venisse a bloccarlo e identificarlo. Così è venuto e poi la questura se l'ha portato via in questura. Il giovane aggressore era salito alla fermata degli istituti scolastici di Lancenigo. Erano già vivaci di suo appena sono saliti perché hanno preso a pugni la carroceria del mezzo. Dopo una volta a bordo hanno cominciato a fare altrettanto baccano dentro, finché poi è sfociato in istruzione mettendo le mani addosso al collega. La vittima oltre allo shock ha riportato alcune ferite che hanno richiesto le cure del pronto soccorso. Il collega praticamente era tutto quanto scosso e aveva tutte quante delle pressioni al petto molto visibili. L'ennesimo episodio di violenza che preoccupano un po' i conducenti mom. Questi casi si ripetono quotidianamente e tante volte riusciamo a contenervi. Altre volte invece siamo preoccupati perché succede troppo spesso.